Tra tutti gli spettacoli organizzati per la festa di Borgo Rovereto ci sarà anche l'evento organizzato dal gruppo AMAG, la parte che si occupa del servizio idrico integrato. Dalle 16.30 alle 19 in piazza Santo Stefano ad Alessandria ci saranno gli allievi e le allieve di otto scuole di danza che si esibiranno su un palco allestito per l'occasione. Nel sabato ci sarà questa festa in piazza Santo Stefano che era prevista il 22 marzo e che era stata rimandata. È una festa che noi dedichiamo ai ragazzi e alle ragazze, infatti ci saranno parecchie scuole di danza che faranno saggi legati al mondo dell'acqua e ci saranno giochi per bambini più piccoli che abbiamo già fatto in passato con trucca bimbi, giochi vari. E poi c'è una cosa nuova, molto bella, di una ballerina acrobata all'interno di una sfera di tre metri di diametro trasparente che è una cosa particolarissima, è uno spettacolo di artisti che arrivano da fuori e che noi abbiamo già presentato ad Acquia al Teatro Ariston e che è molto bello e che anche questo richiama sempre il tema dell'acqua. Noi ci siamo sempre in queste occasioni perché ci teniamo come AMAG a così divulgare questo concetto di risparmio che ci deve essere su questa importante risorsa e lo facciamo anche, lo facciamo naturalmente partendo dai ragazzi più giovani, dai bambini e usciamo dai confini della nostra azienda perché riteniamo di avere sempre questo ruolo che svolgiamo nella comunità importante.